In piena pandemia il governo Marsilio chiude la casa di riposo di Sant'Omero, una struttura presente a Sant'Omero che dà tanti servizi al territorio che esiste da decenni. Davvero uno schiaffo alla Val Vibrato e soprattutto ai tanti anziani che sono ospitati in quella struttura. Gli operatori che insistono su quella struttura da oltre dieci mesi non prendono lo stipendio, anzi a loro va il pensiero e soprattutto la solidarietà. Quella struttura di proprietà della ASP poteva e doveva essere ristrutturata. Oggi addirittura l'assessore ha quasi indicato il responsabile di tutto questo, il Consiglio di Amministrazione della ASP. Sappiamo tutti che il Presidente è di nomina della Giunta regionale, quindi è un Presidente di fiducia della Giunta regionale, così come il Manager della ASP è di fiducia della Giunta regionale. Si poteva fare di più e meglio. Dopo due anni di Giunta a Marsilio il primo risultato in Val Vibrato è la chiusura della Casa di Riposo.